Lo scopo sarebbe stato quello di accelerare i pagamenti dovuti alle imprese, realizzazioni e montaggi ed ecoambiente Italia e di ottenere un canale privilegiato nella corresponsione delle somme da parte della RAP. I due imputati, arrestati nell'agosto scorso dopo aver consegnato una mazzetta da 5.000 euro, hanno scelto il rito abbreviato, fruendo dello sconto di pena di un terzo, mentre Bonanno ha optato per il rito ordinario e sarà giudicato in tribunale a partire dal 4 ottobre. Il comune di Palermo ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo suo carico, che inizierà il 4 ottobre prossimo. Il giudice ha accolto le tesi dei PM Gianluca De Leo e Claudia Ferrari, ma ha riqualificato il fatto come corruzione impropria, dato che Bonanno, funzionario tecnico in servizio nell'impianto di Bellolampo, avrebbe accettato soldi per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio. L'operazione fu effettuata dalla Direzione Investigativa Antimafia di Trapani, che stava seguendo sotto il coordinamento della DDA un filone di indagine sul ciclo dei rifiuti partito dagli accertamenti compiuti sull'imprenditore dell'eolico e dell'energia alternativa e Vito Nicastri, originario di Alcamo. Caruso, Pisasale e Bonanno, dopo essere stati ai domiciliari, sono tornati liberi alcuni mesi fa.